Oggi ricorre la festa della presentazione di Gesù al Tempio. In questo giorno si celebra la cosiddetta candelora. Fuori dalla chiesa si benedicono le candele che ogni persona ha con sé e poi si entra processionalmente. Questa festa ricorre 40 giorni dopo il Natale. Perché si usano le candele? Questo è dovuto al brano del Vangelo secondo Luca che si legge oggi in questa festa dove si descrive che Maria e Giuseppe, come era usanza in quel tempo, portano il loro figlio al Tempio per presentarlo a Dio. Sembra una contraddizione, visto che si tratta del figlio di Dio, ma credo che in quel gesto vi sia innanzitutto la consapevolezza di Maria e di Giuseppe nel riconoscere che quel figlio non era di loro proprietà, ma appartiene a Dio. E questo guardate che riguarda ogni coppia, ogni famiglia, ogni coppia che ha dei figli. I tuoi figli, per quanto tuoi, nati da te e dal tuo partner, non sono di tua proprietà. Se ci pensiamo a una coppia, che cosa mette di suo nel fare un figlio? Ben poco, lato del concepimento. Poi non decidi tu come si sviluppa. Certamente quando la donna è incinta fa attenzione, che il bambino cresca al meglio, sta attenta nel mangiare, in quello che è il suo stile di vita. Però non decidi tu come si sviluppa. Non decidi tu il colore degli occhi, dei capelli, le caratteristiche fisiche che avrà, il carattere che avrà, i gusti, le capacità. I genitori decidono il nome dove vivrà, lo educano per quello che possono, ma il grosso non lo decidono loro. Ecco, come ricordavo mercoledì citando San Giovanni Bosco, affidiamo ogni giorno i nostri figli, i nipoti a Dio. Facciamo tutto ciò che possiamo per loro, per il loro bene, ma con l'umiltà e l'onestà di riconoscere che non ci appartengono. Ritorno alla domanda iniziale. Perché si usano le candele in questo giorno di festa? Perché nel Vangelo si racconta che i genitori di Gesù lo portano al tempio e li incontrano Simeone, un uomo di grande fede, anziano, che aspettava la venuta del Messia. E lo Spirito Santo, come leggiamo dal brano, gli aveva pronunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, cioè senza aver visto il Messia. Quando vede il bambino, l'uomo riconosce in lui il Messia, appunto, e prorompe in questa preghiera. Ora puoi lasciare, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Come ricordavo a Natale, Gesù è luce per l'umanità. È venuto a far luce su chi è Dio, per quello che si usano le candele. È venuto a far luce su chi è Dio. Ha chiarito che Dio c'è, che ci ama, che siamo Suoi figli, che non ci abbandonerà mai, né quando cadiamo nel peccato e tantomeno quando moriremo. Gesù è venuto a far luce su ciò che siamo e su ciò che è Dio, su come lui ci considera. Ecco il senso allora delle candele. Attenzione, Gesù non è come una luce artificiale, non è una lampadina, beh sì, una candela, è qualcuno di vivo, che non solo fa luce, ma che scalda i cuori, che brucia, che brucia il peccato, la paura, la paura di sentirci soli, abbandonati, abbandonati nel peccato, nella morte. Siamo un po' tutti abituati, no, alle cose artificiali, alle luci artificiali, che sono sì funzionali, ma sono fredde, senza anima, senza vita. Ci sono tante luci che catturano il nostro sguardo, ma chiediamoci se sappiamo lasciarci affascinare, se sappiamo soffermarci sulla luce viva e calda di Cristo. Simeone si accorge di questa luce e io so accorgermene. È bellissimo ciò che a un certo punto Luca scrive riguardo Simeone. Anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Immaginiamoci questo signore anziano, questo uomo anziano, che prende tra le braccia questo bambino che era figlio di Dio, il Messia. Io so cogliere la luce di Dio tra le mie braccia, so farmi abbracciare da Dio e io lo abbraccio. Questa festa si celebra, come dicevo, 40 giorni dopo il Natale. Riprendo allora questo passaggio che ho scritto sull'immaginetta che ho fatto per le mie parrocchie per il Natale. C'è una luce diversa da tutte le altre, una luce che mai si esaurisce, davanti alla quale si può sempre sostare. Una luce in grado di scaldare l'animo, di far percepire che non siamo mai soli, mai smarriti, mai vuoti. E Gesù è lui la vera luce per l'umanità. Buona giornata.